Dopo sei mesi muore Davide Pensa, giovane di 30 anni, originario di Casalvelino. Davide, nel mese di maggio scorso, fu ritrovato al di sotto di un muro in località Serra Marina, nel comune di Casalvelino. Il giovane cadde da un'altezza di tre metri. A ritrovarlo fu uno dei fratelli che notò l'auto parcheggiata poco distante dall'incidente. Il giovane fu trasportato prima al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove fu sottoposto un delicato intervento chirurgico e poi trasferito in seguito presso l'ospedale Versilia di Camaiora, in provincia di Lucca, per un intervento di trapianto alla calotta cranica. Purtroppo, lo scorso 12 novembre, la triste notizia della sua morte. Nella giornata di ieri è stata fatta anche una fiaccolata. In suo ricordo, tanti vi hanno preso parte perché Davide era molto conosciuto e ben voluto. Questa mattina si sono svolti anche i funerali. La camera ardente è stata allestita presso la chiesa della tantissima assunta di Casalvelino. Grazie.